Quanto la priera dice, ti ringrazio, oh mamma mia, per le tante volte che mi hai liberato dalle fiamme dell'inferno. E quando pronunzavo queste parole, Padre Pio si commuoveva. Quante volte dobbiamo dirle anche noi alla Madonna, grazie oh Maria Santissima, che ci mantieni in una vita spirituale il più possibile, che ci tieni lontana dal peccato, dalle inciustizie, e fai sì che stentiamo la mano verso colui che soffre. Madonna del Carmine significa anche Madonna che ha un manto che ci copre, che ci raccoglie tutti, e ci fa sentire veramente fratelli. Noi siamo fratelli, lo diciamo. Lo diciamo anche con un visione. Forse meno con i fatti. Sarebbe opportuno di essere più fratelli con i fratti e meno con le parole. Grazie a tutti. Grazie.